Buongiorno e ben ritrovati a Casa Sapenza. Oggi domenica 15 ottobre Luigi Faestinese ci farà vedere come si fa la maionese fatta in casa. Allora buongiorno, oggi faremo la maionese fatta in casa velocissima, non fatta a mano quindi lo faremo con un semplice mix. Quindi gli ingredienti sono due uova, mezzo limone, olio extravergine, olio di semi e sale. Allora iniziamo a mettere le due uova, poi li mettiamo il limone, lo spremiamo bene così, Allora questa è la procedura del mix. Poi ci sarà la procedura fatta a mano, che gli ingredienti sono diversi, però questa qua più o meno è molto veloce, è più leggera, giusto? In parte che è più leggera, poi ci vogliono due minuti per farla, quindi quella con il flussino ci vuole tempo, perché devi montarle tutto. Sale un pizzico appena appena. Per dare quel senso di dolce mettiamo anche un po' di zucchero, se lo trovo ecco lo so. Gli mettiamo un pizzico di zucchero, così, basta. Poi gli mettiamo olio di semi. L'olio di semi deve essere il doppio, quindi l'olio di semi deve essere il doppio. Ecco qua. Questa è la procedura. Adesso andiamo a mixarlo. Allora, fatto questo andiamo a mixarlo. Quindi mettiamo il mix sotto, deve toccare il fondo dove stanno le uova, quindi premiamo. Adesso iniziamo a prendere il fondo, vedete? Man mano salite con i mix, vedete? Quindi mettiamo le uova, un po' di sapergini, un po' di semi, sale. Non lo vedete? Non lo vedete? Non lo vedete? Vedete? Non lo vedete? Ecco qua, maionese fatta. Ecco qua, maionese fatta. Allora, maionese pronta. Quindi, piatto finito, con appetito. Al prossimo video.